non voglio uscire mannazza cosa stai combinando perchè ci ha fatto uscire entrambe Laura corri Aurora apri Laura c'è un problema wow si venga con tanta fame si Aurea anche io ho tanta fame che cosa mangiamo? le gocciole gli obbracci oppure ci sono gli oreo cosa vuoi? le gocciole le gocciole ho messo un pubione dici che sono le più buone queste va bene le mangerò anche io una guarda lei tieni Auri cosa si dice? grazie ah ok prego Auri tocca a me prendiamo ok possiamo mangiare cin cin ah però voi dove pensate sempre solo a mangiare? mangiando gli oncini come state? noi siamo qua ci stiamo ai quanto annoiamo infatti volevo proprio chiedervi Laura Aurora che si potrebbe fare oggi di bello? qualcosa di diverso? non facciamo sempre le stesse solite cose bella domanda cosa possiamo fare? bella domanda Mike cosa facciamo? non ho tante idee ultimamente fammi pensare beh si potrebbe fare qualcosa fuori però non so che temperature ci sono bisognerebbe che qualcuno della famiglia si sacrificasse e lascia sentirle quindi chi va? io nonna non che io vado no no ci vai tu Mike dillo ci vai tu ci vai tu io non ci vado Aurora tu vuoi andare? no non vuole andare anche Aurora quindi non ci pensiamo nemmeno noi stiamo qua ma scusate anch'io vorrei che andaste voi perché devo andare sempre io però non è giusta come cosa ogni volta devo fare sempre io le cose più brutte dai 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 vai veloce vai 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 noi ci aspettiamo ciao eh ho capito sto andando calmiamoci perché tanto qua deve andare sempre i papà fuori vai vai ho capito vado vado eh vado ma siamo impazziti oh no 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 oh leggini non avete idea fuori Fa freddissimo Stare fuori E' praticamente impossibile Quindi dobbiamo già escludere Qualsiasi attività Che riguardi l'esterno Dobbiamo pensare a qualcos'altro Avete qualche idea? Io ho una super idea Possiamo guardare tutti i cartoni Tutti il giorno Mi piace? No in realtà a me è come idea Non mi piace proprio Aurora Ma che noio Stare a guardare a casa i cartoni tutto il giorno Piuttosto Andiamo al centro commerciale Andiamo al centro commerciale A fare shopping Io non voglio stare a casa a guardare i cartoni No 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 Non se ne parla sono troppo noiosi Io voglio andare a fare shopping 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 al centro commerciale No 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 sono più belli i cartoni No 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 Ma scusate un secondo Posso dire la mia per una volta Io sono ufficialmente d'accordo con la Laura E sapete perché? Perché per una volta Io almeno se andiamo al centro commerciale Potrei dare a portare quei negozi di tecnologia Che mi piacciono tanto Avete presente dove ci sono tutti i compiù Ma no andiamo a fare shopping Eh ma ci sono anche quelle Quindi è un'ottima idea andare al centro commerciale Ci dividiamo E così ognuno è felice Uffa Non voglio uscire Ma vento fuori Leoncini Sapete che vi diciamo? Per una volta Io e Laura Siamo d'accordo E sapete cosa accadrà Andiamo dove? Al centro commerciale Devo far veloce Perché devo andare al centro commerciale Ok Premo un pochino Quale scarpe posso mettermi? Ho una vasta varietà Bianche, nere, colorate Mi sa che me le metto nere Sì prendo quelle nere Che bel visetto Penso che Prima di andare al centro commerciale però E tagliarmi un pochino la barba Perché mi sta crescendo E poi guardate cosa mi è uscito Un super brufolo Devo trovare un modo Per farlo andare via Fammi vedere Se trovo qualche prodotto Dei miei qua Quest'ora Quest'ora Ah Devo pisare un piano Un'idea Leoncini Ti metti in canale Papà Papà Tempostino Cosa? Il postino Devo subito andare Oh Grazie Non l'avevo neanche sentito io 20 minuti dopo Ma dove sei cazzato? Cominciò ad avere anche tanto freddo Eccoti qua Mike Ma dove eri finito? Ti stavo ad aspettare la mezz'ora dentro E poi Cosa ci fai qua fuori Al freddo Così appoggiato Al cancello Ma si potrà Dai Timmy Cosa ci fai qua? Eh Laura Che ti devo dire? Io sto aspettando il postino Però lo sto aspettando da un bel po' Ormai Non so nemmeno quanto tempo sia passato Eppure Postino Io non lo vedo Ma Il postino Mike Ma Come fai a sapere che ci fosse il postino qua fuori Ad aspettarti? Cioè Non riesco a capire Chi te l'ha detto? Eh Laura Sì sì Proprio il postino Me l'ha detto Aurora che stava arrivando il postino Me Me l'ha detto Aurora 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 Mannaggia Cosa stai combinando? Perché ci ha fatto uscire entrambi? Laura Corri Ecco fatto Ora posso Spettare Yeah Aurora Apri Aurora Facci entrare Aurora Dai che dobbiamo entrare Apri Auri Auri Ti prego Almeno fai entrare il papà se non vuoi far entrare Laura Perché fuori Fa davvero freddo Auri Leoncini Secondo me ci sta ignorando Perché ci ha chiuso fuori Aurora Aurora Apri Apri Ciao ciao Oh Oh Posso coltare Yeah Maledetta Aurora Ti seguo Ti seguo Ti seguo Ti seguo No è chiusa Laura Laura Vediamo su questa Questa nemmeno si apre proprio Laura È finta Ma dai Ci ha chiuso fuori Però Laura Se io mi ricordo bene Ho lasciato aperta Eh sì 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 È vero Ho lasciato aperto la finestra di sopra Dalla parte della cucina E Aurora questo non lo sa Quindi potremmo provare a scavalcare E andare Quindi Leoncini Correte Venite di nuovo con noi Dai Dai Leoncini veloci Allora Laura Facciamo una cosa Ok Io adesso ti prendo in spalla E me Ma ci si va bene Ma no Ma sì dai che ce la facciamo Dai Laura Allora no vedi qua No 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 vedi qua Pronta sali sopra di me Uno Sei pronta Laura No no È pronta È pronta È pronta Pianata Mi dite calze Sì sì È uno È due È tre Laura Mi hai quasi spaccato la schiena Mannaggia E non ti sei nemmeno attaccata Mike Ma lo dici a me che mi sono quasi rotta L'osso del cuore Per le tue idee Mamma mia E poi Altissimo Io sono troppo vasta Non ci riesco Laura Dobbiamo provarli in contrario Non peso quanto sembra Quindi dovremmo farcela Tu mi prendi in spalla E io mi attacco sopra Ma sei pazzo Ma 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 pesi quanto due maiali messi interi No Vai piano con le tue maiali Sai quanto pesano Quanto te No Più tosto ti metto la sedia Ma stai scherzando È vero Laura Brava Brava Non ci avevo pensato di metterla a sedia Così È veramente fattibile Io sono quella delle idee Perché ti farei così No Ma io non ci arrivo Laura Io ci provo Vai 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 Sì Sì Paolo Vai Speriamo a me Uno Oh Mike dai che ce la fai Dai che ce la fai Un piede E poi l'altro Un piede E poi l'altro Dai che ce la fai Arrampi cattuso così con le mani E io tutti con i piedi Sì Sì Dai che ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta In grande Mi sono a giocare Guarda un percattone Wow Vediamo i cartoni Mimi Ma come è tutto bene Laura Sono anche caduto Per venire su Dai sei pronta Sì Ecco Vieni qua che ti dà una mano Sei pronta Senta Uno Due Due Tre Laura Ce l'hai fatta Non ce l'hai fatta Fai piano Fai piano Arrampi Ti aiuto Uno Due Tre Oh Però ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Una parola Alquanto grossa Diciamo che Mike E Laura Non sono dei ladri Guardiamo Laura Speriamo bene È aperta Ora mi sente questa volta Auri Aspetta 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 No no Questa volta Sente proprio me Aurora Oh no È arrivato Il scappare Devo scappare Aurora Vieni qua Alla ği